Cavaliere buongiorno, ecco sono qui, cosa è successo? Mi hanno detto vai un attimo dal Cavaliere Direttore io ho fatto i telegrammi a Salerno Notizie Sì, infatti in dettaglio Solo che lei arriva sempre di ritardo E c'era traffico Cavaliere E vi prego, quando la cosa è seria, lei per far venire alla sua presenza io devo inviare i telegrammi E' una cosa proprio... Eccoci qua, siamo qui, siamo qui Cavaliere, allora buon calma Mi dispiace di Esposito che è un grande amico Sì, ok E il direttore di TV, ci devo prendere le misure No, assolutamente, no, 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 è una bravissima persona Lo so voi, ci vorremmo Salutiamo, salutiamo Salutiamo Esposito Ok, allora Cavaliere, con calma, lei ha chiamato, venite, venite che devo dire una cosa Cosa è successo? Allora, bello, calma, calma, tranquilli, tranquilli, facciamo capire bene le persone Assolutamente La prima cosa che tengo da dire alla tifoseria e a chi mi ascolta Che la Salernitana si salverà Solo, caro Daniele, dobbiamo giocare contro gli arbitri Questa è una cosa vergognosa Io adesso ho fatto fare i biglietti alla stazione Parto per Roma Andate a Roma? Vado a Roma, ma vado seriamente, guarda Ah, quindi andate al Colosseo? Al Colosseo andate? A quello Colosseo, a quello Colosseo E non lo so, dove dovete andare? Io vado da quel signore che si chiama Rocca Rocca? Rocca, come si chiama? Ma chi è questa Rocca? Rocco Rocchino Rocchino Rocca, Rocca Ma guarda Rocchino Io ho preso nome e cognome di questo disegnatore degli arbitri Ok Che la devono smettere Io adesso come Presidente Onorario del Centro Coordinamento Presidente del club Vittorio Tosto Dico la mia Noi siamo stanchi Abbiamo visto due partite Sia con la Juve e sia con Napoli Ci hanno condannato Sia Juve e sia Napoli La Salernitana va in vantaggio Parliamo dell'ultima partita Con Candrea 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 Antonio il nostro capitale Sì Ok va bene Fa quel gioello di colla a San Paolo Sì Che ha fatto invazzire i napoletani Ok Questo signore Albitro A tre minuti, quattro minuti del primo tempo Dà un calcio di rigore inesistente Poi la Salernitana ha fatto un secondo tempo bellissimo Mi va a dare sei minuti di recupero Sei minuti? E' una cosa vergognosa E' Il calcio sta per finite Amici miei Sei condizionato le partite prima di farlo Eh no, non ne ho condizionato Togliete Fermatevi col campionato No, ci distociamo un attimo Ma non me ne frego Mi possono anche denunziare No Io sto dicendo la verità Daniele Vedi lo sto dicendo Le altre squadre hanno anche dei Daniele mi devi tirare spazio Io sono arrabbiato Sono arrabbiato No ma Volevo distacere un attimo Perché volevamo Decisare una cosa Ci hanno fregato Ci hanno fregato Un punto con la Juve E un punto con Napoli Sì Ma le altre squadre però Dobbiamo anche dire Che hanno una formazione Una rosa molto più forte Nostra Ma tu non devi guardare oggi Daniele Noi siamo sul mercato La Salernitana ha operato già Quattro acquisti Due sono arrivati E stanno in arriva altri due E chi sono questi altri? Uno dell'Atalanta E un altro della Juve Piano piano Daniele Ma se la domenica Dobbiamo giocare contro gli albiti Caro Rocco No Chi è Rocco? Rocco l'amico di Roma Ah Rocco Che è grande Rocchi Rocco Come si chiama questo? No Rocchi Aiutami No Rocco Rocchi Sì ma io Rocco non lo conosco Ma chi è Rocchi il barbire? Ma vuole il barbire Ma vuole il barbire questo? Che fa? Ma non vuole il barbire Voi lo ricordate Rocco Lamberti? Ho capito Ma lui non vuole il barbire Grande riposo della Salernitana Sì Ma vuole il suo parente? Ma no Ma non saranno parenti Io vado a Roma Ok Vado proprio a parlare di persona Ok Voglio vedere se mi riceve Ok Perché io ho la voce in capitolo Ho il diritto di parlare Con educazione Con rispetto Senza offendere a nessuno Ma la devono smettere Daniele La devono smettere Perché non possiamo soffrire Avanti a una televisione O allo stadio Ma domenica arrivo in Genova Auguriamoci Auguriamoci Che l'amico romano Manderebbe Questo Rocco Rocchi Eh sì sì Manderebbe un arbitro Non per favorire la Salernitana Assolutamente Ma per fare le cose giuste Con tutto questo posso dire una cosa Dite cavallino Io ti ringrazio che tu mi fai parlare Archiviamo tutto Ok Non ne parliamo più Andiamo avanti Con il mio augurio Che è la mia voce Caro dirigente che lei stabilisce i calvitri Chi sta parlando con lei È una persona di 73 anni Sono 60 anni che vedo la Salernitana Penso qualche cosa me l'ho imparato Un'altra cosa prima di chiudere Sì prego prego Io ho fatto una tabella Tu sai io scrivo sempre Sì prego Mangano 18 partite alla fine Con tutto questo che ci hanno condannato Nelle ultime due Noi ne parliamo quelle di prima ancora La Salernitana Si può ancora salvare Tu mi dici perché La Salernitana su 19 partite 18 partite Dico bene Ne abbiamo 8 8-9 in casa Ne dobbiamo vincere 7 Sono tutti scontri diretti che abbiamo la Regchi Ci devo far visita il Genova Il Sassuolo Il Verona Sono tutte partite a portale della Salernitana Sto parlando di calcio Ok ok Se c'è un rigore netto Si deve dare Ma un pallo con i piedi Qua e là E mi va a dare il calcio di rigore a Napoli Per me non mi sta bene Ok Perché sono cose che voi rovinate il calcio Rovinate un'intera tifoseria La Salernitana è bella e deve vivere La devono lasciare tranquilla Ok Ultima domanda Velocissimi Il risultato Salernitana Genova Salernitana Genova finirà 2-1 Per noi E sarà la prima vittoria Delle 7 partite che io ho detto 7 vittorie e 21 punti 12 ne abbiamo La salvezza è a 33-34 punti Ragazzi Ce la possiamo ancora fare Per noi